E bella a tutti ragazzi, sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, eccoci qua, sabato, ho appena raggiunto il punto, adesso andiamo là insieme agli altri allenatori perché tra un minuto spaccato iniziano i ride Elite fuori classe di Regidrago, quindi affrontiamolo! Eccoci qua allora ragazzi, primo ride di Regidrago, fantastico, guardatelo qua, non facciamo neanche i check intorno che magari abbiamo anche uno Shiny, ma chi se ne frega, 33.000 punti lotta, entriamo ragazzuoli ormai è in presenza eh, questo ride qui, quindi tanta roba almeno. Cinque, eccoli qua, cinque, siamo dentro in cinque, grandi, gialli, ottimo, aspettiamo il countdown, non c'è ancora Shiny. Ok ragazzuoli, eccolo qua, appena tirato giù, sto andando avanti anche con le missioni lì, tre ride effettuati, molto bene, eccoci qua, cerchiamo di andare avanti che vediamo raga se riusciamo a fare magari anche qualche altro ride, 19 tentativi, non può essere Shiny ancora eh, lui, eccolo qua, 16.65, adesso io non so raga come si presenta, ammazza, vediamolo qua che cerchio ha, che cerchio ha ragazzuoli, uh super enorme, allora mi concentro essendo il primo, speriamo di catturarlo e dopo lo valutiamo. Ah ok bomberoni, eccolo qua, catturato, registriamolo, registriamolo, tanta robetta raga, tanta robetta che poi immagino che sia a fianco eh, poi l'altro lì, la Rage, quell'altro che arriverà negli altri ride elite, lo valutiamo? Sì dai, lo valutiamo, no che schipezza raga, tre stelle sì ma fa schifo, quindi è un 16, non si vede nemmeno, 16.65, adesso andiamo a effettuarne un altro raga, qua dietro dovrebbe essere quello là, quello là blu che si vede lì, cacchierò l'abbiamo già fatto in questo qua, e nella palestra gialla, quindi mi aspetto, amici blu, amici blu, datemi qualcosa di interessante, quindi qui, 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 niente, coughing, un cavolo di niente, qua abbiamo anche un Wingull, ma prima raga c'era praticamente un Gimmigull, infatti se andiamo sotto il diario, vediamo raga, vediamo, vediamo, hai catturato Zorua? Ma com'è Zorua? Hai ricevuto uno strumento dal... Ah era Zorua, era Zorua raga, no è giusto, giusto, ma dove è Zorua? Ah qua, ma ci siamo o ci facciamo? Eccolo qui Zorua, ok, no perché raga praticamente sì, ho il compagno Gimmigull e qui era spawnato Gimmigull, faccio, ma che cacchierò c'è uno spawn di Gimmigull? Eh no, era Zorua del mio compagno, andiamo all'altro ride. Eccoci qua, il secondo ride ragazzuoli, qua intanto Shiny Check non facciamo niente, niente, non ha la missione raga, a quanti pare non è neanche uscita, cioè adesso entriamo in questo ride e vediamo dopo. Et voilà, appena tirato giù ragazzuoli, speriamo abbastanza alto in percentuali V, un po' fino addirittura, ci ha dato molto bene, molto bene, tutte le ricompense, una spattafiata, 4 su 5 ride, molto bene raga, che dovrebbe dare a Aerodactyl lì come ricompensa, 1 minuto e 18, vediamo un po' come è messo, come è messo, Shiny, 16, 28. Attenzione ragazzuoli, andiamo a farci uno scambio, quindi dovrebbe già avermi invitato, eccoci qua, allora, entriamo nello scambio, non è scambio fortunato purtroppo raga, peccato, allora il panza, la pancia, pan, 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 eccolo qua, pan, pan, quello verde ragazzuoli, pan, panza, ecco, almeno mi escono tutti, ne ho uno, 11PL, ma non ne avevo di più, è buono, questo qua quant'è? Vediamo un po' questo qua, tiriamolo via tra i preferiti, voilà, l'avevo preso, ah, da scuola, qua l'avevo preso, ah, era quello del, è vero, è vero, perché il primo che ho catturato era Berlino, se ricordo bene, voilà, 40.000 di polvere di stella, ma ne abbiamo, guardate lì sotto ragazzuoli, siamo quasi a 20, ok, accettiamo e let's go, 1.9 km, così almeno andiamo a farci anche, non mi ricordo se sono andato avanti con quella medaglia lì degli scambi, della distanza eccetera, vediamo, 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 ultra bolle, entrambi i Pokémon, eccolo qua, che bellino raga, che bellino, sapete che io l'ho cercato da matti e non è uscito lo Shiny, fortunato niente, fortunato niente, ma vediamo come è messo, va bene, va benissimo, va benissimo, grazie mille Migu, almeno abbiamo registrato lo Shiny Dex, anche lui, preferiti, 99PL, 97PL, voilà, molto bene. Allora Bomberoni, eccoci qua, ho appena fatto un raid di, oh oh, eccolo che non è uscito Shiny, si presenta così, grazie mille, ancora inviti, ancora inviti, Max stavolta, eh, aspettate, al momento non entro, grazie mille, degli super inviti Bomberoni, ma allora raga, stavo guardando, questa missione, cioè, non è uscita, perché se andiamo sotto novità, allora, andiamo qua, tac tac, che dovrebbe essere qua sotto la sezione oggi, eh, la missione, è uscita anche questa news raga, se volete andare a vedere che ci sono cose molto interessanti, eccola qua, allora, quella di Regi Drago, ricerca a tempo, una ricerca a tempo esclusiva, sarà disponibile per gli allenatori che completano un raid fuori classe, questa ricerca a tempo può essere ricevuta solamente una volta, completa la missione, vedete raga, completala una volta, cioè un raid, noi ne abbiamo fatti addirittura due, eccoli qua i miei Regi Drago, che il più forte che abbiamo trovato era questo qua, ormai, vediamo oggi raga, ho intenzione di andare a farne altri, perché sono a caccia di quella missione, che non è uscita, vediamo ancora adesso, dovrebbe essere qua, eh, dovrebbe essere qui, no, questa qua è quella dei colori raga, non c'è, 0, 0, 0, io non so che cacchio, perché non c'è uscita questa missione, ma non solo a me, anche agli altri allenatori raga che erano con me. Secondo round, eccoci qua, bomberoni sono esattamente, non proprio, però sotto la palestra, da qua dovrebbe beccare, eccola qua, 4 minutini ancora, sto attendendo raga i miei amici allenatori, oppo, spiazziamo, piazziamo, mettiamo il gattino, il bellissimo Shiny, che abbiamo, eh, ci siamo scambiati oggi con Migu, bellissimo, che grazie mille che me l'ha fatto registrare, perché non l'avevo ancora trovato, raga, poi sapete che io sono un super amante dei gatti, però volevo vedere un attimino l'uevos, quindi 3 minuti, eccolo qua, tac, ce l'abbiamo qui, ok, attendiamo quindi ragazzi qualche minuto, che scade anche il countdown, Shiny c'è qui, coughing, niente, bug ragazzuoli, super bug, perché la missione non è ancora uscita, qua c'è scritto appunto che effettuando un ride di Regi Drago, una volta concluso, non dice della cattura, quindi una volta concluso, effettuato, si doveva sbloccare appunto sotto la sezione oggi, qua ragazzi, una missione a tempo, che durava penso fino alle 5, o magari tutta la giornata di sabato, per appunto aggiungere un amico, la missione richiedeva aggiungi un amico, e poi appunto la missione era completata, aveva appunto esperienza, e caramelle dei tre Regi, Regi Steel, Regi Rock e Regice, però non si è vista raga, doveva anche esserci lì con Cina, che i ride non ex, i ride elite fuoriclasse, sono attivi, cioè praticamente come ad esempio questo qua, che possiamo vedere il bonus dell'evento attuale, doveva esserci la stessa cosa però appunto con i ride elite, ad esempio meno 8 ore, una roba così raga, che mancano 8 ore, e la guardate qua che figata, sta iniziando raga, qua sta iniziando, i miei amici saranno qua arrivando, cerchiamoli un attimo. Allora raga, eccolo qua, appena tirato giù e mi sono già spostato, sono già andato sotto un'altra palestra, che adesso andiamo a effettuare un altro ride, ormai io sono in giro col mezzo qua, quindi gli altri stanno arrivando, 20 tentativi, dobbiamo far velocissimo raga, 16,75, ok raga, appena tirato giù, vediamo un attimino nel primario cosa esce fuori, dai dai, qualcosa di bello che magari è anche l'ultimo che vado a effettuare, 19 tentativi, eccolo qua, eccolo qua, catturiamolo prima, catturiamolo, vedo un attimino anche sul secondario raga, vediamo sul secondario perché l'ho tirato giù anche da qua, quindi occasione doppia, dai 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 che è meglio, dai che è meglio, una schifezza, ok eccolo qua, appena preso raga, anche 4 caramelle L, molto bene, molto bene, ne abbiamo di più L che quelle normali, vabbè, ok, come è messo, come è messo, oddio, un bel 96%, eccolo qua, abbiamo concluso alla grande raga, abbiamo concluso alla grande, allora ragazzi, ride appena terminato, avete visto il mio bel 96%, eccolo qua, sono molto fiero, molto contento, dopo ho effettuato anche un ride di O.O., grazie mille a Berto che mi ha invitato da Milano, però niente shiny, niente shiny, adesso volevo andare innanzitutto a piazzare qua, allora qui ho già messo, qua ho già messo, nell'altra palestra, vediamo un po' qua, eccola qua, era questa qui, almeno facciamoci un attimino anche di monete, porca miseria, mettiamo lo Zorua che abbiamo catturato stamattina, raga, giriamoci anche il Pokestop qua, borsa piena, eccellente, molto bene, andiamo a prenderci anche le missioni, raga, ecco qua, devo fare ancora un chilometro più o meno per schiudere il huevos, lì, ma apriamoci queste dell'evento, dai, no, cast form, bellissimo questo, normale, seconda missione, raga, dai, 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 un altro cast form, no, normale, allora bomberoni, eccoci qua a casa, finalmente, attenzione qua, diglett, niente, niente, allora, com'è andata, raga, questa giornata di ride elite, uno schifo, uno schifo perché non c'è neanche qua, stavo guardando, dovrebbe essere, allora, la missione, abbiamo visto che, boh, io non lo so, fatemi sapere voi, ragazzuoli, se avete ricevuto, appunto, la missione, eh, ride fuori classe, dovrebbe chiamarsi, una roba così, però, appunto, se si partecipava a un ride di reggi drago, come abbiamo visto qua alla news, si sbloccava, appunto, questa missione che doveva essere qua, sotto oggi, ragazzi, ma doveva esserci anche l'iconcina con su, il bonus, cioè che oggi, tutta la giornata, 8 ore, 10 ore, 12 ore, quante poi che durava, c'erano appunto i ride fuori classe elite, ma non c'è nemmeno quella, cioè, non hanno messo un cavolo di niente, ho guardato infatti dagli australiani, raga, che sono super lamentati, perché alcuni hanno, non sono riusciti neanche a catturare reggi drago, magari hanno utilizzato il pass, ma poi gli diceva, ride boh, che non esisteva lì, un bug assurdo, ragazzi, e non hanno potuto catturare questo pokemon, che guardate qua, oggi abbiamo trovato un bel 96, raga, l'avete visto prima? sono contentissimo, e poi chiaramente ho anche altri, raga, merce di scambio, ne abbiamo fatti 4, quindi 3, ottima merce di scambio di questi reggi drago, aspettiamo chiaramente il prossimo, ma speriamo che si stemino, perché se andiamo a fare regge lechili, l'altro, cioè, che ci sono ancora questi super bug, questi ride fuori classe elite, mmm, perché inoltre a questo, raga, effettuando il ride, ad esempio in quella palestra, che vediamo qua davanti rossa, se lì c'era il ride elite, andavamo a farlo, lì è tutto, una volta sconfitto e catturato il pokemon, negli intorni della palestra, per adesso non ricordo se 15 o 30 minuti, spawnavano, c'era uno spawn di pokemon rari, l'altra volta, quando c'era Uba, era così, raga, che mi sembra che era proprio lì dove potevano spawnare, addirittura gli uccelli leggendari, Zapdos, Moltres, e Articuno, lì in giro, così selvatici, raga, ma che spettacolo, io mi sembra che ne avevo incontrato uno, ma era scappato, perché come al solito super bug, però l'idea c'era, l'idea c'era, era tanta roba, pensavo che l'applicavano anche questa volta qua, in questi ride fuori classe, ma c'è da dire che sono stati nettamente peggiori, e ultima cosa, allenatori, non sono andato a mettere, avete visto oggi il modulo esca dorato, ne ho uno qua sul mio primario, uno anche sul mio secondario, ma non ne ho messo neanche uno, perché appunto è uscito questo anche lì, un mezzo bug, perché dovrebbero durare tre ore attualmente, però se si va a mettere questo modulo esca dorato, dura mezz'ora, quindi a questo punto non so che fare raga, se provare a posizionarlo, magari anche qua, visto che ho i pochi stop qui raga a casa mia, magari ne mettiamo uno, li mettiamo entrambi, tanto si possono ancora prendere, valuterò un po' questa cosa nei prossimi giorni, o in caso fatemi sapere il vostro pensiero. Bomberoni, allora questi ride fuori classe, ride elite, sono veramente una schifezza, però il 96% lo abbiamo portato a casa, sono molto contento di averlo potuto registrare, ma anche abbattuto raga, perché la missione ancora adesso non è saltata fuori, e su questa cosa Bomberoni, fatemi sapere voi se avete ottenuto questa cavolo di missione, una volta terminato il ride. E per oggi ragazzi, da GamerGio è veramente tutto, mi raccomando, l'iscrizione del canale, per rimanere sempre aggiornati, e se il video raga vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like, GamerGio vi saluta, e ci vediamo alla prossima, ciao Bombers! Buongiorno